Ma a lei chi lo ha eletto, signor Casaleccio? La seconda domanda è, questa piattaforma russo viene gestita da una ditta privata o viene gestita dal Movimento? Inizialmente Casaleccio Associati ha sviluppato questo prodotto per quanto riguarda il mio ruolo. Il mio ruolo è sempre stato quello di supporto al Movimento 5 Stelle. E sono uno dei tanti attivisti e uno dei tanti volontari che ha supportato il Movimento 5 Stelle in questi anni. Hey, sono Marco Canestrari, sono un programmatore, vivo a Londra e questo è il mio podcast. Anni fa ho lavorato con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Insieme a Nicola Biondo ho scritto due libri sul Movimento 5 Stelle, Supernova e Il Sistema Casaleggio. Se ti appassionano l'attualità, la politica, l'economia, la tecnologia, questo podcast fa per te. Ogni settimana commento i fatti più importanti e racconto il retroscena del partito più improbabile della storia. Talvolta ospiterò qualche amico e farò sentire i vostri messaggi vocali rispondendo alle vostre domande, che potete inviarmi dal sito www.marcocanestrai.it. Quella che avete ascoltato è la famosa domanda e risposta, domanda del giornalista spagnolo e risposta di Davide Casaleggio qualche anno fa alla stampa estera, ogni tanto vale la pena ricordare le balle che raccontano i politici. Questa settimana, a proposito di Casaleggio, parleremo degli stati generali che vanno avanti, ci sono state le votazioni su 23 punti dell'esito del documento finale degli stati generali, ma c'è stata anche una contromossa di Davide Casaleggio che ha organizzato, nello stesso momento concomitante a una riunione del Movimento 5 Stelle, una parallela riunione degli attivisti e della base, come l'ha chiamata lui, vedremo che questo termine non è usato a caso, proprio appunto quando anche Vito Crimi ha chiamato delle assemblee per continuare, così ha detto lui, gli stati generali passando a discutere delle tematiche del programma di fatto del futuro Movimento 5 Stelle, ma ci sono stati anche altri sviluppi rispetto alla questione del governo Conte, degli ammiccamenti di Forza Italia, questa settimana ha fatto traballare un po' il governo Matteo Renzi che ha esplicitamente contestato Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, nella sua volontà di creare una struttura di missione per gestire i 200 miliardi di euro che arriveranno per il programma Next Generation EU, quel cosiddetto Recovery Fund, che non si chiama così, ufficialmente viene chiamato così in Italia, insomma 200 miliardi sono tanti soldi, Conte pensava di gestirli con una struttura di missione che rispondesse a lui, Renzi si è messo di traverso e il governo ha ricominciato a traballare, vedremo che vi propongo proprio adesso una analisi e uno possibile scenario futuro su chi potrebbe essere il prossimo Presidente del Consiglio. Non dimenticarti di iscriverti al podcast ovunque tu lo stia ascoltando e cercami su Twitter e Telegram con il nome utente Marco Canestrari. Puoi anche iscriverti alla mia newsletter sul sito marcocanestrari.it o inviarmi un messaggio vocale dall'indirizzo www.marcocanestrari.it slash parla. Negli ultimi giorni complice anche l'attivismo, come dicevamo, di Matteo Renzi, il governo Conte è tornato a traballare. In ballo c'è la gestione dei 200 miliardi dei fondi stanziati da Next Generation EU. Sono tanti soldi che Conte pensava di poter gestire con una struttura di missione nominata da lui e che rispondesse solo a lui. Non poteva non generare reazioni che infatti ci sono state. Queste fibrillazioni si aggiungono agli amicamenti delle scorse settimane da parte di Forza Italia, di cui abbiamo anche parlato. Si stanno creando le condizioni, a mio modo di vedere, per una nuova maggioranza. Non è detto che succeda, ma se Conte non dovesse reggere si aprono scenari dall'esito non ancora del tutto prevedibile. Secondo me, tra le possibili ipotesi, c'è un governo Di Maio. Luigi Di Maio è in Parlamento da sette anni e mezzo. Ha fatto il vicepresidente della Camera, il capo di partito, il vicepresidente del Consiglio, il ministro dello sviluppo economico, il ministro del lavoro. Soprattutto ha fatto anche, ed è adesso, il ministro degli esteri. A prescindere da come questi ruoli sono stati ricoperti, anzi forse soprattutto per come questi ruoli sono stati ricoperti, ne parliamo fra un attimo, non vedo perché non possa fare il capo del governo. Del resto, quando cadde il governo Renzi, il suo posto lo prese proprio il ministro degli esteri Gentiloni. Il movimento nelle prossime settimane voterà il nuovo direttorio. I membri verranno votati uno a uno, che è una mossa per impedire ad Alessandro Di Battista di dominare l'organo collegiale, ma difficilmente impedirà che ne diventi comunque l'esponente più influente. Ci saranno sicuramente persone a lui vicine in questo organo, oltre, verosimilmente, a lui stesso. L'ultima volta che il partito di maggioranza relativa del governo ha cambiato la guida in corsa, il governo non resse. Enrico Letta fu sostituito da Matteo Renzi, che aveva vinto il congresso del partito. In questo caso Di Battista avrebbe tutto l'interesse a indicare Luigi Di Maio, capo del governo al posto di Conte. I prossimi due anni saranno verosimilmente disastrosi dal punto di vista economico, sociale. Quindi quale modo migliore per scaricare le responsabilità di questo disastro sull'avversario interno e rivendicare allo stesso momento di aver permesso, con la sua guida, di avere il primo presidente del Consiglio del Movimento. Potrebbe perfino rivendicare il merito di aver riunito il partito attorno al vecchio capo a cui viene concessa la gloria negli ultimi anni di carica parlamentare della più alta carica istituzionale a cui possa per età aspirare. Nel frattempo Di Battista e Casaleggio avrebbero tutto il tempo di organizzarsi per la campagna elettorale del 2023 con la corrente di Di Maio impegnata verosimilmente nell'esecutivo. Di Maio, per ovvi motivi, non credo che rifiuterebbe. Aggiungendo a Curricum la carica di presidente del Consiglio, il suo futuro politico sarebbe assicurato più di quanto già non lo sia e volendo, potrebbe, immagino sia questo il suo pensiero in queste ore, cercare di riprendere la guida del Movimento da Palazzo Chigi perché sarebbe comunque difficile per Casaleggio mettersi contro il capo del governo su qualsiasi tema. Non sarebbe difficile per Di Maio farsi sostenere la Forza Italia che ha già fatto capire di essere disponibili. Certo, ci sarebbe il rischio di concedere molto spazio all'opposizione di Salvini e Meloni ma del resto Di Maio non verrà ricandidato e quindi non credo che sia un problema che lo tocchi particolarmente da vicino. Se vuoi conoscere la vera storia del Movimento 5 Stelle ci sono due libri che non puoi perderti. Sono Supernova e il sistema Casareggio. Gli abbiamo scritti io e Nicola Biondo. Io sono stato dal 2007 al 2010 il braccio destro di Gianroberto Casareggio quando progettava, costruiva, immaginava il Movimento 5 Stelle. Nicola è stato dal 2013 al 2014 il capo della comunicazione alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle appena sbarcato a Montecitorio. In Supernova ti accompagneremo nelle stanze degli uffici di Casareggio Associati dove il partito di Beppe Grillo è nato ed è cresciuto e poi in un ideale viaggio fino a Roma dentro Montecitorio, dentro gli uffici parlamentari dentro il Palazzo del Potere dove Luigi Di Maio ha scalato il partito fino a diventarne il capo politico. Nel sistema Casareggio invece raccontiamo il sistema di potere la struttura che Davide Casareggio ha costruito durante l'agonia di suo padre e dopo la morte di suo padre per mantenere il controllo sul primo partito del paese diventando il lobbista più potente d'Italia. Una storia di soldi, potere, società, associazioni influenza sul Parlamento. Puoi trovare Supernova e il sistema Casareggio in tutte le librerie online e offline. Chi segue il mio blog e il mio podcast sa della guerriglia a bassa intensità che si sta combattendo tra il Movimento 5 Stelle o meglio il Movimento Parlamentare e l'associazione Russo di Davide Casareggio. Russo che si autodefinisce il cuore del movimento addirittura Casareggio ha anche spesso passato una velata minaccia dicendo che i trappianti di cuore si possono fare ma sono sempre molto rischiosi. Rousseau è il soggetto attraverso il quale Casareggio controlla il partito. È indicato all'articolo 1 dello Statuto del Movimento come l'unico soggetto titolato a gestire l'amministrazione del movimento, la sua cassa, i suoi processi di selezione del personale politico, tutto ciò che riguarda la gestione di fatto del movimento. Casareggio di suo è inamovibile dal proprio ruolo per via dello Statuto dell'associazione Russo e questo ha generato una crescente tensione con i parlamentari, molti dei quali non potranno più essere ricandidati per via della regola dei due mandati e invece vorrebbero esserlo, cosa che Casareggio non vuole assolutamente perché quella regola è quello che gli permette di restare mentre tutti gli altri passano. Così da mesi c'è uno scontro tra questi attori che vede però Casareggio in posizione di grande vantaggio per il ruolo che ricopre, il know-how che possiede e le risorse finanziarie che può gestire. Dal punto di vista della comunicazione la principale confusione e il principale vantaggio di Casareggio è dovuta al fatto che il blog delle stelle, l'organo di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle è di proprietà di Casareggio tramite l'associazione Russo che quindi ne può disporre come meglio crede. Infatti Casareggio ha operato nel corso dell'anno per sabotare i cosiddetti stati generali una iniziativa di Vito Crimi per cercare di spostare il baricentro del potere da Milano verso Roma ha cercato Casareggio di orientare il voto come vedremo riuscendoci solo in parte pubblicando quasi quotidianamente contenuti propri senza confrontarsi con gli altri dirigenti del partito spingendo la base verso la propria posizione. Anche la scorsa settimana si sono verificati nuovi episodi di questo scontro. Si sono svolte infatti le votazioni sull'esito degli stati generali 23 quesiti di cui fra poco vedremo l'esito a cui hanno risposto circa 17.000 persone pochine, un decimo degli iscritti al partito. Subito dopo il Movimento Romano ha convocato una nuova tornata di assemblee virtuali degli stati generali questa volta focalizzati sulla nuova agenda politica del partito il programma sostanzialmente per il prossimo futuro contestualmente però è stato annunciato un sito dedicato diverso da Rousseau registrato verosimilmente dal Movimento 5 Stelle e dall'associazione Movimento 5 Stelle a fine ottobre. Un tentativo a un avviso fallimentare in partenza però per cercare di dirottare un po' di traffico dal blog delle stelle dominato da Casareggio verso questo nuovo sito. Queste assemblee, dicevo, si svolgeranno il 19 e il 20 dicembre ed è interessante perché si svolgeranno il 19 e il 20 dicembre anche delle riunioni organizzate dall'associazione Rousseau all'insaputa verosimilmente di Crini una provocazione frontale di Casareggio nei confronti del partito romano un ennesimo tentativo di sabotaggio del processo di emancipazione dalle rede che Crini sta disperatamente con poco successo tentando. Quando si apre il blog delle stelle in queste ore infatti il primo posto in evidenza è proprio quello sull'evento di Rousseau e non su quello del partito chiamato questo evento di Casareggio la base incontro a Rousseau. Anche questa è una provocazione molto evidente a partire proprio dal termine dell'uso base dall'uso del termine base una presa in giro della traiettoria verso la forma partito che Crini e Di Maio vorrebbero dare ai 5 stelle in contrasto con la struttura personale di Davide Casareggio. Anche l'obiettivo è una sfida di Casareggio agli stati generali disegnare, cito, nuovi spazi avanzati e personalizzati rispetto ai vecchi meetup su Rousseau che consentono agli iscritti di creare gruppi locali, incontrarsi, portare avanti battaglie condivise sul proprio territorio. È un chiaro tentativo di sfruttare a proprio vantaggio l'esigenza emersa dei territori durante gli stati generali rispondendo con una soluzione prima che lo facciano i parlamentari. Sarebbe una dimostrazione plastica di efficienza della struttura di Casareggio rispetto a quella proposta da Roma che ormai si muove con i riti e le lentezze del palazzo. Continuo a ritenere che questa sfida verrà vinta da Casareggio. Lo è già dal punto di vista della comunicazione per il vantaggio competitivo che ha potendo gestire in prima persona il blog delle stelle ma pure per l'immagine che viene data nell'invito a partecipare da parte di Casareggio rispetto alla sensazione di riunione ristretta che ha quella di Crimi a cui ci si potrà iscrivere nei prossimi giorni quando tutti saranno già impegnati in realtà a partecipare all'evento di Russo a cui ci si può iscrivere già subito e mentre vi parlo ci sono circa 400 iscritti per entrambi i giorni. Casareggio invece si spende in prima persona sarà in videoconferenza insieme agli altri soci di Russo e quindi avrà un contatto più diretto con la base cosa che i parlamentari quasi non hanno più. Il 10 e 11 dicembre invece si sono svolte le prime votazioni sull'esito degli stati generali Russo si conferma il posto in cui gli attivisti approvano decisioni già prese perché ognuno dei 23 quesiti ha ricevuto l'approvazione da un insieme molto ridotto di votanti come abbiamo visto un decimo degli eventi diritto che ha votato sì tra il 60 e il 95% a seconda del quesito. Sebbene questo comporti una vittoria formale di crimi e del partito romano è chiaro che questa iniziativa è molto poco sentita dalla base. Le domande riguardavano questioni formali di organizzazione come la struttura territoriale la carta dei valori gli organi collegiali il riconoscimento di rappresentanze territoriali anche dove non ci sono eletti e sostanziali invece di finanziamento il partito cerca di emanciparsi anche da questo punto di vista visto che in questo momento tutte le risorse vengono in qualche modo sempre dirottate verso l'associazione russo questo punto sui finanziamenti e quello riguardante il rapporto con russo che dovrà essere regolato da un contratto di servizio o da un accordo di partnership potrebbero imperserire Casaleggio che ancora non si espone direttamente su queste questioni. I commentati di scopo istituiti per le tornate elettorali di elezioni garantivano flussi di denaro quando cessavano di esistere con le rimanenze che venivano versate a Russo il contratto di servizio potrebbe significare che la piattaforma verrà tolta dallo statuto del Movimento 5 Stelle tutto dovrà però comunque essere votato sulla piattaforma Russo e siccome le parti in causa saranno due difficilmente Casaleggio rinuncerà alla scrittura dei testi dei quesiti e soprattutto a cosa mettere in votazione quindi immagino ci sarà un certo attivismo da parte di Casaleggio anche su queste su queste questioni la campagna che sta conducendo è chiaramente pensata per arrivare preparato al momento della verità quello vero in cui il suo ruolo verrà davvero messo in discussione e forse ai voti ci arriverà però con alcuni suoi uomini nel direttorio prossimo venturo e un rapporto con gli attivisti ben più consolidato di quello che hanno i parlamentari grazie per avermi ascoltato fino a qui se ti piace questo podcast lascia un like un commento una recensione ovunque tu lo stia ascoltando iscriviti e condividilo con i tuoi amici questa puntata è stata ideata prodotta e montata da me Marco Canestrari la foto di copertina è di Sara Grandieri mi puoi seguire su twitter e telegram cercando il nome utente Marco Canestrari iscriverti alla mia newsletter sul sito marcocanestrari.it o anche mandarmi un messaggio vocale dall'indirizzo marcocanestrari.it slash parla